Un primo tassello importante sicuramente arriverà dall'esame autottico che domani presso l'obitorio dell'ospedale di Vallo della Lucania svolgerà il medico legale Adamo Maiese. Come è stata uccisa la prostituta di nazionalità cinese trovata senza vita il 3 gennaio in un appartamento in via Caravaggio da Agropoli è l'aspetto ancora da chiarire. La donna potrebbe essere morta per un colpo alla testa o per asfessia, la bocca era sigillata dal nastro adesivo. Si spera che l'assassino possa aver lasciato tracce di sé sul corpo della vittima con la quale probabilmente aveva già consumato un rapporto sessuale. Da definire poi anche il giorno preciso della morte, l'ultima volta la cinquantenne residente a Tersigno è stata vista dal proprietario di casa che da lei ha raccontato agli inquirenti si era recato per mostrare l'appartamento ad una coppia intenzionata a prenderlo in fitto per le vacanze estive. Era il 29 dicembre. I carabinieri della compagnia di Agropoli, diretti dal capitano Francesco Manna, scavano nella vita della straniera che aveva deciso di trascorrere le festività natalizie nel comune cilentano. Chi l'ha uccisa e perché si valutano diverse ipotesi ma regge poco la possibilità che la donna sia morta durante un gioco erotico. Il colpo alla testa, il fatto che sia stata legata mani e piedi ed imbavaiata danno più forza all'ipotesi di un omicidio volontario. L'assassino non ha lasciato in casa neanche lo scoccio utilizzato per immobilizzarla. Certamente la prostituta ha aperto la porta dell'appartamento al suo omicida. Qualcosa, si spera, verrà fuori dall'analisi dei tabulati telefonici o dalle richieste arrivate alla donna online sui siti dedicati dove solitamente procacciava i clienti.